buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo un monocolo short focus 4x 4x vuol dire che ingrandisce 4 volte questo strumento è perfetto per osservare in lontananza può essere utilizzato per escursioni per bird watching in montagna e tutte le volte che devo osservare qualcosa qualche oggetto a partire da 30 40 cm sino all'infinito ha un attacco dove si può inserire una cordicella per poterlo portare a tracolla ingrandisce 4 volte vediamo che stiamo indicando l'ingrandimento mentre l'obiettivo della lente è 12 mm è uno strumento compatto facile da trasportare e molto utile per osservazioni all'aperto inoltre un'altra funzionalità è quella di mettere a fuoco all'incirca tra i 30 e i 35 cm di distanza dall'oggetto e questo lo trasforma in uno strumento utile anche per osservare oggetti situazioni processi dove non possiamo avvicinarci troppo riassumiamo si tratta di uno strumento che ingrandisce 4x diametro dell'obiettivo 12 mm facile da trasportare vi ringraziamo per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale su youtube grazie ancora